Il sistema di segnalazione di velocità eccessiva con riconoscimento dei segnali stradali comunica al conducente il superamento del limite di velocità sul tratto di strada percorso. La telecamera identifica i segnali stradali e li mette a confronto con il sistema di navigazione per individuare il limite di velocità consentito. Il limite di velocità consentito viene visualizzato sul quadro della strumentazione e sul display di segnalazione. In caso di superamento del limite di velocità, il conducente viene avvisato tramite una segnalazione visiva. Se è attivato il limitatore di velocità o in caso di pioggia, il sistema suggerisce una regolazione in base alla velocità consentita. Al conducente vengono inoltre segnalate le aree pericolose sul quadro della strumentazione e sul display di segnalazione. È possibile attivare il sistema dallo schermo multifunzione. Grazie a tutti.